Questo è un podcast di RaiPlaySound. Sono Gerardo Colombo, ho 75 anni, quasi 76, siamo nel 2022, e ho fatto il magistrato per 33 anni, dal 1974 fino al 2007, quando mi sono dimesso perché sono arrivato alla convinzione che perché si osservino le regole è necessario non essere obbligati a farlo attraverso la minaccia di una pena, ma è necessario che ci si metta dentro la consapevolezza che osservare quelle regole, quindi osservare quelle leggi è giusto, nel senso che è utile, nel senso che ci serve, nel senso che se le osserviamo viviamo meglio. Perché faccio questo podcast? Perché secondo me è necessario conoscere il passato per poter vivere il presente e progettare il futuro. E la P2 è un tassello, altro che un tassello o un mattone, visto che si parla di massoneria, è un mattone rilevante del nostro passato. È qualche cosa che noi abbiamo bisogno di conoscere. Perché se non conosciamo quel che è successo nel passato più vicino, e poi come facciamo a vivere il presente? Come facciamo a organizzare il nostro futuro? E lo facciamo per questo. Il podcast serve per il presente e per il futuro. E a noi, che siamo in ascolto, uomini e donne del presente e del futuro, non resta che percorrere, passo dopo passo, accompagnati da Gerardo Colombo, il racconto di quelle ore incerte e decisive. Dalla scoperta delle carte, al tortuoso percorso delle indagini, fino alla commissione parlamentare e al processo. Non ci resta che raccogliere, insieme al magistrato, gli indizi, i frammenti di una verità complessa, celata, adulterata, facendo ricorso alla memoria personale, agli articoli di giornale, agli archivi di Stato, e ricostruire insieme podcast dopo podcast l'articolato mosaico di un capitolo oscuro della storia recente, di cui è protagonista la più potente e tentacolare organizzazione massonica italiana. La P2, che con tenacia, perseveranza, sprezzo del pericolo, la giustizia italiana è riuscita a mettere in scacco. Quindi facciamo un passo indietro e vediamo di riepilogare a che punto siamo. Investigando sulle vicende dell'avvocato Sindona e sulle vicende sul omicidio dell'avvocato Ambrosoli, troviamo le carte della P2. Troviamo le carte della P2, ne abbiamo un primo contatto alla Guardia di Finanza in via Fabio Filzi e poi le portiamo nei nostri uffici. Già dal primo contatto rimaniamo esterefatti di quel che abbiamo trovato, perché non ci sono soltanto tutte le carte che riguardano l'organigramma della loggia. Sono tante carte, complessivamente sono circa 5.000 foggi. L'organigramma è anche in qualche misura complesso, perché c'è la lista degli iscritti e poi gli iscritti sono divisi in una serie di gruppi, 17 se mi ricordo bene, ognuno dei quali ha il suo capo. C'è una serie di circolari, di comunicazioni interne alla P2, ci sono tanti fogli, qualcuno in bianco, qualcuno compilato, che riguardano i giuramenti che gli iscritti alla loggia prestano. C'è una serie di domande autentiche in attesa di essere esaminate e qualcuna di queste è invece sospesa. Quelle in attesa di essere esaminate avranno il loro corso, che dovrebbe essere un corso anche abbastanza breve, perché sono previsti già dei giuramenti per le settimane successive. Cosa c'è d'altro in tutto questo materiale che riguarda l'organizzazione? Ci sono altre comunicazioni che riguardano possibilità di riunioni, insomma, la vita di un'associazione che si vede essere particolarmente vivace. Ci sono anche delle documentazioni che riguardano il pagamento delle quote associative, perché era previsto che gli associati pagassero una quota. C'è una rubrichetta in cui sono indicate queste cose, sono indicate in tutti questi fogli anche le uscite varie che riguardano vari settori, varie persone. Tra queste notiamo che dei soldi sono andati anche a una corrente di magistrati, o meglio, a alcuni personaggi indicati come appartenenti a una corrente della magistratura, magistratura indipendente. Cosa c'è d'altro? Ci sono una trentina di buste sigillate, in ciascuna delle quali avremmo scoperto dopo, perché la storia delle buste sigillate è un pochino complicata, ciascuna delle quali contiene una notizia di reato. E questo è il quadro complessivo al quale ci avviciniamo con una cautela estrema, perché ci accorgiamo subito della delicatezza e della pericolosità di quelle carte. E ce ne accorgiamo notando, per esempio, i nomi degli iscritti, troviamo tre ministri in carica, troviamo la domanda autografa in originale del ministro della giustizia in carica. Tra i nomi ci sono il comandante del SISMI, il servizio segreto militare del SIS, del servizio segreto civile, dell'organo di coordinamento, di controllo dei due servizi. E poi ci sono i nomi di due dei tre generali di divisione che comandano appunto le tre divisioni che in qualche modo operano in Italia, da parte dei carabinieri. Troviamo il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, troviamo una serie quasi, una serie notevole, non esageriamo, una serie notevole di imprenditori. Troviamo tutta la catena di comando del Corriere della Sera, il proprietario, l'amministratore delegato, il direttore del giornale. Troviamo giornalisti, troviamo magistrati. Troviamo tutti coloro che avremmo scoperto o si era già scoperto, appartenendo ai servizi di sicurezza, avevano depistato le indagini sulle stragi e cioè avevano posto in essere delle azioni tese a fare in modo che da magistratura non riuscisse a scoprire gli autori delle stragi che si erano susseguite da Piazza Fontana fino ad arrivare a Bologna e cioè dal 1969 al 1980. Troviamo il nome di qualche persona deceduta o che sarebbe stata uccisa, di qualche persona uccisa, deceduta perché uccisa o che sarebbe stata uccisa. Il giornalista Pecorelli, per esempio, tra i primi e Roberto Calvi tra i secondi, il quale era il presidente del Banco Ambrosiano e aveva sostanzialmente ereditato la posizione di Michele Sindona all'interno delle banche private italiane. Troviamo il nome di parlamentari, troviamo il nome di magistrati, troviamo il nome di tanti funzionari appartenenti alla burocrazia intesa in generale e in particolare troviamo i nomi di tanti funzionari dello Stato che si trovano a livello notevolmente elevato. Troviamo per esempio anche il nome del prefetto Sembrini che era il segretario particolare del presidente del Consiglio dei Ministri in carica. Tra le carte della P2 troviamo quelle 36-37 buste sigillate e che sono sigillate proprio da Licio Gelli, cioè il capo indiscusso della P2, il quale le chiude e mette la sua firma sulla sigillatura. Perché erano sigillate queste carte? Io ho la convinzione che si trattasse un pochino di materiale utilizzabile come arma di ricatto o comunque di materiale che dovesse servire perché erano sigillate da Gelli. A Gelli e basta. Eventualmente ad altri soltanto nel caso in cui Gelli ritenesse o chi gli stava sopra ritenesse che fosse il caso che altri ne fossero informati. Dico chi gli stava sopra perché ci arriveremo. I lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 hanno accertato che Gelli era una specie di tradunione, di momento di comunicazione tra la piramide della P2 e una specie di piramide rovesciata che stava sopra la P2. I vertici delle due piramidi si toccano e il punto di contatto è esattamente di Gelli. Gelli era quello che serviva a fare in modo che la P2 facesse quel che riteneva utile la piramide rovesciata sovrastante. Quindi le buste perché penso che fosse un materiale da utilizzare da Licio Gelli e perché era un materiale che aveva significato anche politico molto rilevante. Se io so che 7 milioni di dollari vanno occultamente, il finanziamento illecito non è consentito, al segretario nazionale del Partito Socialista, poi segretario nazionale del Partito Socialista, insomma in qualche modo, gli posso far sapere che sono in condizioni, diciamo così, di ricattarlo. E così può succedere per il segretario nazionale della democrazia cristiana, in ordine al quale sono in possesso dell'accordo che lo stesso ha sottoscritto con il Corriere della Sera, con la Rizzoli, a proposito dei debiti che la democrazia cristiana ha nei confronti della Rizzoli per l'attività di propaganda che la Rizzoli ha fatto pubblicità nei confronti della democrazia cristiana. E via dicendo, da esercitare influenza nei confronti di Roberto Calvi e nei confronti della Procura della Repubblica, se è vero che noi avremmo scoperto poi, non noi però, si sarebbe scoperto, non noi personalmente dicevo, ma si sarebbe scoperto che un procuratore aggiunto della Repubblica riceveva regolarmente una cifra ma neanche tanto alta da Roberto Calvi per informarlo di tutte le notizie che potessero riguardarlo riservate all'interno della Procura. E questo era un materiale di grande efficacia proprio dal punto di vista ricattatorio e per quello Geli l'aveva sigillato e se lo teneva per sé, così come si teneva per sé sigillate tutte le informazioni che i servizi evidentemente gli passavano. D'altra parte era più che evidentemente Geli di casa nei servizi perché alla loggia erano iscritti il direttore dell'uno, il direttore dell'altro e il direttore dell'altro ancora, il direttore dell'organo di controllo e di coordinamento dei due servizi. Quindi già soltanto la lettura dei nomi è veramente impressionante. Noi siamo convinti, Giuliano e io, Giuliano non appena abbiamo ricevuto le carte abbiamo cominciato oltre che a esaminarle un pochino a cercare di approfondire proprio il senso di questa scoperta. Siamo convinti meglio, abbiamo paura che i servizi di sicurezza vengano a riprendersi le carte. E allora cosa facciamo? I primi tempi, le prime cose che facciamo sono tese a conservare l'autenticità delle medesime. E quindi procediamo subito, ma procediamo proprio subito, da una parte catalogarle e dall'altra, prima ancora che catalogarle, a fotocopiare quelle che riteniamo più importanti, quelle di maggior rilievo. E per evitare che possano essere trovate, le inseriamo in un fascicolo che sta nell'archivio del nostro ufficio, dell'ufficio istruzione, dove ci sono centinaia e centinaia di faldoni, ciascuno dei quali contiene i risultati delle indagini che si stanno facendo. Ecco, un faldone che contiene atti relativi a una indagine, a un'istruttoria formale per terrorismo. Mi pare di ricordare che si chiamassero formazioni comuniste di attacco o qualche cosa del genere. La memoria ormai sono passati quasi 40 anni, più di 40 anni, più di 40 anni. Ecco, facciamo tutta questa attività e nello stesso tempo, siccome il fatto che siamo stati a Castiglion-Fibocchi, ad Arezzo e così via viene notato e si comincia a vociferare, pensiamo che sarebbe molto opportuno fare in modo che non uscissero delle notizie false o tendenziose. Allora pensiamo di chiedere al consigliere istruttore, al capo dell'ufficio istruzione nel quale lavoriamo, di fare un comunicato nel quale si dica che tutte le notizie che non provengono dall'ufficio sono destituite di ogni fondamento. Pensiamo che forse sarebbe il caso che questo comunicato, questa informazione al pubblico non l'adesse il nostro ufficio, noi siamo giudici, ma l'adesse la Procura della Repubblica, quella incaricata di iniziare e di proseguire l'azione penale, insomma la cosiddetta parte dell'accusa. E così andiamo a parlare con il Procuratore, il Procuratore della Repubblica di Milano. Andiamo, lo salutiamo e gli diciamo quello che pensiamo che sarebbe il caso di fare un comunicato per evitare che le notizie possano essere in qualche misura strumentalizzate. Il rischio, a mio parere e a parere di Giuliano, era veramente notevole. E con nostra sorpresa il Procuratore ci dice, ma voi quelle carte lì non potete tenerle, dovete restituirle. Come dobbiamo restituirle? Eh sì, dovete restituirle perché cosa c'entrano con le indagini che state facendo? Insomma, qualche cosa di questo tipo. E poi arriviamo alle buste sigillate. Siccome noi eravamo molto perplessi su quello che ci diceva, allora in qualche misura cerca di limitare un pochino il campo. Almeno le buste sigillate dovete restituirle perché essendo sigillate non sapete cosa c'è dentro e quindi non sapete se contengono notizie di reato oppure no. Non le avevamo ancora aperte. E noi rimaniamo stupiti e siccome però siamo indipendenti, lo salutiamo, ce ne andiamo e continuiamo a fare il nostro lavoro senza tener conto di quello. che ci ha detto. Apriamo le buste e come dicevo in ciascuna delle buste troviamo una notizia di reato. Cioè la notizia che sarebbe stato commesso un reato. C'è una busta che riguarda un conto protezione sul quale sarebbero arrivati in Svizzera, altra busta, 7 milioni di dollari a un segretario politico di un partito, il partito socialista. C'è una busta che riguarda alcuni accordi presi tra il segretario della democrazia cristiana e il gruppo editoriale Rizzoli Corriere della Sera. Si trattava di così, a occhio, possibilità che ci sia stato un finanziamento illecito, che ci fosse stato un finanziamento illecito da parte della Rizzoli verso la democrazia cristiana. Ci sono tante carte che riguardano, c'è un bustone, una busta grande, in cui ci sono tante carte di sicura provenienza dei servizi segreti che riguardano Licio Gelli, ci sono delle carte che riguardano Roberto Calvi, che fanno intendere che all'interno della Procura ci possa essere qualcuno che gli passa delle notizie, ci sono carte che riguardano altre cose. Il livello sostanzialmente è quello, il contratto Eni Petromin, che era una cosa sulla quale c'era stata una grande discussione pubblica a proposito dell'eventualità che fosse stata pagata una tangente all'estero. Erano queste le cose che troviamo nelle buste. Forse è il caso di aprire anche qui una parentesi, di fare anche qui un box per riuscire a avere le idee chiare a proposito di come sono organizzate le istituzioni. La nostra Costituzione, perché si parte sempre da lì, è la nostra prima legge e quindi è la legge che poi stabilisce come si fanno le leggi e cosa fa il Presidente della Repubblica e cosa fa il Governo e come si diventa Presidente del Consiglio dei Ministri e tutte queste cose qua e la magistratura e così via. La seconda parte della Costituzione ha proprio come contenuto questo, l'organizzazione delle funzioni delle istituzioni, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e poi i giudici e la Corte Costituzionale e il referendum e così via. Allora, cominciamo dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è l'organo di garanzia, è quello che ha il compito di far sì che le varie istituzioni si possano parlare tra di loro, possano interagire nel modo più proficuo per il funzionamento diciamo dello Stato nel suo complesso, che forse potremmo dire per il funzionamento proprio dell'Italia. Perché l'Italia, la Costituzione italiana, adotta, anche se con alcune precisazioni, il principio della divisione dei poteri. Voi sapete tutti quanti, credo, che fino a un certo punto lo Stato era organizzato attraverso un sistema assolutistico, il sovrano cioè era assoluto e in sé stesso radunava il potere di fare le regole, cioè di fare le leggi, di applicarle, cioè di governare e di controllare che le regole fossero osservate. E faceva tutto lui e quindi non esisteva nessun bilanciamento con altre istituzioni, altre forze, altri poteri che potessero svolgere qualche funzione di controllo. Arriva, credo, nel 1748, se mi ricordo bene la data, il signor Charles II Barone Montesquieu, che aveva anche una serie di altri nomi, però lasciamo perdere, il quale trova la strada, la via per trasformare lo Stato assoluto in uno, si chiama Stato di diritto, cioè in uno Stato in cui i cittadini siano garantiti nei confronti del potere. Lui dice se noi facciamo che c'è un organo, un posto, un luogo delle persone che fanno le regole, che fanno le leggi, un organo che governa e cioè che amministra la società, che applica le leggi ed un organo che controlla, un organo che verifica se le leggi sono applicate nel modo corretto, allora non esiste più un potere assoluto e quindi il cittadino è tutelato. Queste le parole di Montesquieu. Il potere legislativo verrà affidato e al corpo dei nobili e al corpo che sarà scelto per rappresentare il popolo, ciascuno dei quali avrà le proprie assemblee e le proprie deliberazioni a parte e vedute interessi distinti. Dei tre poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario è in qualche senso nullo. Non ne restano che due e siccome hanno bisogno di un potere regolatore per temperarli, la parte del corpo legislativo composta di nobili è adattissima a produrre questo effetto. Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca perché questa parte del governo, che ha bisogno quasi sempre di un'azione istantanea, è amministrata meglio da uno che da parecchi, mentre ciò che dipende dal potere legislativo è spesso ordinato meglio da parecchi anziché da uno solo. Infatti, se non vi fosse il monarca e il potere esecutivo fosse affidato a un certo numero di persone tratte dal corpo legislativo, non vi sarebbe più libertà, perché i due poteri sarebbero uniti, le stesse persone, avendo talvolta parte e sempre potendola avere nell'uno e nell'altro. Se il corpo legislativo rimanesse per un tempo considerevole senza riunirsi, non vi sarebbe più libertà. Infatti, vi si verificherebbe l'una cosa o l'altra, o non vi sarebbero più risoluzioni legislative e lo Stato cadrebbe nell'anarchia, o queste risoluzioni verrebbero prese dal potere esecutivo, il quale diventerebbe assoluto. Se il corpo legislativo fosse riunito in permanenza, potrebbe capitare che non si facesse che sostituire nuovi deputati a quelli che muoiono. E in questo caso, una volta che il corpo legislativo fosse corrotto, il male sarebbe senza rimedio. Quando diversi corpi legislativi si sosseguono gli uni agli altri, il popolo, che ha cattiva opinione del corpo legislativo attuale, trasferisce con ragione le proprie speranze su quello che succederà. Ma se si trattasse sempre dello stesso corpo, il popolo, una volta vistolo corrotto, non spererebbe più niente dalle sue leggi. Si infurirebbe o cadrebbe nell'apatia. Il potere esecutivo, come dicemmo, deve prendere parte alla legislazione con la sua facoltà di impedire di spogliarsi delle sue prerogative. Ma se il potere legislativo prende parte all'esecuzione, il potere esecutivo sarà ugualmente perduto. Se il monarca prendesse parte alla legislazione con la facoltà di statuire, non vi sarebbe più libertà. Ma siccome è necessario che abbia parte nella legislazione per difendersi, bisogna che partecipi con la sua facoltà di impedire. La causa del cambiamento del governo a Roma fu che il Senato, il quale aveva una parte del potere esecutivo, e i magistrati, i quali avevano l'altra, non avevano, come il popolo, la facoltà di impedire. Ecco dunque la costituzione fondamentale del governo di cui stiamo parlando. Il corpo legislativo, essendo composto di due parti, l'una terrà legata all'altra con la mutua facoltà di impedire. Tutte e due saranno vincolate dal potere esecutivo, che lo sarà a sua volta da quello legislativo. Questi tre poteri dovrebbero rimanere in stato di riposo o di inazione. Ma siccome per il necessario movimento delle cose sono costretti ad andare avanti, saranno costretti ad andare avanti di concerto. In questo modo Montesquieu conclude il suo libro Lo spirito delle leggi. Siccome tutte le cose umane hanno una fine, lo Stato di cui parliamo perderà la sua libertà, perirà. Roma, Sparta e Cartagine sono pur perite. Perirà quando il potere legislativo sarà più corrotto di quello esecutivo. Non sta a me esaminare se gli inglesi godano attualmente di questa libertà o no. Mi basta dire che essa è stabilita dalle loro leggi e non chiedo di più. Non pretendo con ciò di avvilire gli altri governi né dichiarare che questa libertà politica estrema debba mortificare quelli che ne hanno soltanto una moderata. Come potrei dirlo io che credo che non sia sempre desiderabile nemmeno l'eccesso della ragione? E che gli uomini si adattino quasi sempre meglio alle istituzioni di mezzo che a quelle estreme? Questo è il principio della divisione dei poteri. La nostra Costituzione adotta questo principio. Facendo però in modo che esistano dei collegamenti, dei momenti in cui ci si parla, dei momenti di interscambio, per cui i poteri poi non se ne vadano ciascuno dalla propria parte, le funzioni. A me piace più chiamarle funzioni piuttosto che potere, perché questa parola potere in qualche modo è da usare con cautela. Se le funzioni non si parlano poi si creano degli inconvenienti proprio a proposito dell'efficienza e dell'efficacia dell'amministrazione pubblica e poi della vita dei cittadini. Allora il primo strumento, possiamo chiamarlo così, è costituito proprio dalla Presidenza della Repubblica. Il Presidente della Repubblica infatti svolge funzioni sia a proposito della formazione delle leggi, perché le promulga, sia a proposito del governo, dell'amministrazione della società, perché è lui che nomina il governo, e sia a proposito della magistratura perché presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Quello che è chiamato l'organo di autogoverno dei magistrati, cioè l'organo che ha il compito di occuparsi della nomina, della revoca, della disciplina e così dei magistrati. E questo è il disegno di carattere generale. Disegno di carattere generale nel quale il più possibile ciascuno dei poteri è separato dagli altri, cioè è indipendente dagli altri. Ciò si verifica in particolare e soprattutto per quel che riguarda la magistratura, che in Italia non, secondo la Costituzione, non deve subire alcuna interferenza da parte degli altri poteri. Esisteva soltanto un limite che è stato molto ridimensionato, costituito dalla necessità di ottenere l'autorizzazione a procedere nei confronti di persone, membri del Parlamento, della Camera o del Senato, nel caso in cui si dovesse investigare nei confronti loro perché sospettati di aver commesso un reato. Ora, questo limite è stato ristretto molto. Soltanto alcuni atti della magistratura hanno bisogno dell'autorizzazione del Senato o della Camera, mentre per procedere nei confronti parlamentari non occorre nessuna autorizzazione. All'epoca dei fatti di cui vi sto parlando, gli uffici della magistratura erano organizzati in questo modo. C'è quello che inizia le indagini, cioè il titolare dell'azione penale, che è il pubblico ministero. Questa funzione è esercitata dalla Procura della Repubblica. Al di là della Procura della Repubblica, per riuscire a capire un pochino meglio, il Procuratore della Repubblica una volta si chiamava Procuratore del Re. Era cioè quello che agiva per conto del Re, non per conto della comunità, della Repubblica. E allora, se noi andiamo a vedere chi era suo padre, capiamo un pochino di più qual è la linea di intervento, diciamo, in qualche modo del Procuratore, che diventa però Procuratore della Repubblica. All'interesse, il suo compito è quello di tutelare la collettività nei confronti delle devianze e quindi delle trasgressioni, chiedendo però al giudice. Allora esisteva un ufficio che si chiamava ufficio istruzione, dove i giudici istruttori avevano il compito, su impulso del pubblico ministero, di svolgere le indagini per i casi più delicati e complessi. Quando il giudice istruttore aveva finito le sue indagini, poteva o prosciogliere, che vuol dire assolvere, oppure rinviare a giudizio, e cioè chiedere al Tribunale di giudicare la persona oggetto delle indagini. Esisteva poi come esiste adesso, perché invece adesso l'ufficio istruzione non esiste più e le indagini sono fatte soltanto dal pubblico ministero, esisteva poi come esiste adesso anche la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione, che sono dei giudici ai quali si può appellare la Corte d'Appello o ricorrere la Corte di Cassazione contro le decisioni del primo giudice del Tribunale. Ecco, questa era l'organizzazione. Il giudice, dice la Costituzione, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, quindi completamente indipendenti anche dagli altri giudici e anche dal Procuratore della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica, il pubblico ministero, aveva il compito di esercitare l'azione penale, poteva chiedere a me, è successo, per esempio di archiviare, per i fondi neri dell'Iri, un'indagine molto, molto, molto vasta che riguardava 360 miliardi di lire nel 1984-85, è nata da una richiesta del pubblico ministero di archiviazione. Qui non c'è nessun reato, io ho fatto qualche minime indagine, il termine tecnico era ho formalizzato l'istruttoria, che è diventata un'istruttoria formale e ho scoperto tutte queste cose qua. Poi è andato tutto a finire niente per la solita storia che allora nei cassetti del potere non si poteva guardare. E al contrario invece il pubblico ministero potrebbe chiedere al giudice di svolgere delle indagini che il giudice non ritiene necessario svolgere. Giuliano Turone e io eravamo giudici istruttori, mentre Guido Viola era il pubblico ministero che si occupava delle vicende che via via scoprivamo. A cominciare dall'omicidio dell'avvocato Ambrosoli che è stato uno dei momenti in ordine ai quali si è esercitata l'azione penale che ha riguardato le nostre indagini e per andare poi fino alle carte della P2. Ambrosoli Ambrosoli C'è un caso che merita una particolare attenzione. Quello che ha coinvolto due figure di spicco che hanno cercato di contrastare il tentativo del potere occulto di attentare all'autonomia e all'autorevolezza della Banca d'Italia. Paolo Baffi, governatore della banca e il vice direttore generale con delega alla vigilanza Mario Sarcinelli. Siamo nel 1979. Il contesto è quello del processo a Michele Sindona per bancarotta fraudolenta. Come sappiamo, la Banca d'Italia aveva incaricato l'avvocato Giorgio Ambrosoli di indagare sulla liquidazione della banca privata italiana di Sindona. La sentenza ordinanza del 17 luglio 1984 racconta così la vicenda. Ambrosoli avrebbe incontrato in quei giorni Sarcinelli a Roma, in occasione di una delle frequenti visite del commissario liquidatore in Banca d'Italia. Ed infatti Ambrosoli e Sarcinelli si sono incontrati a Roma l'11 gennaio. Durante il suo colloquio con Sarcinelli, Ambrosoli gli racconta delle minacce subite e gli fa sapere di non essere assolutamente interessato ad un incontro a tre con la presenza dell'avvocato di Sindona, Rodolfo Guzzi. Dall'agenda diario di Ambrosoli, inoltre, emerge come Sarcinelli gli abbia confidato che è ripreso il tentativo dell'allora ministro del Tesoro Stammati di fare pressioni su Ciampi, che nel 1979 era direttore generale, perché la Banca d'Italia risolvesse il problema del debito della banca di Sindona, che la questione non fosse di competenza di Sarcinelli, il quale dichiara che era disposto a dimissioni piuttosto che a cedere. Nella successiva deposizione del 14 ottobre 1983, Mario Sarcinelli conferma ulteriormente così. L'avvocato Ambrosoli, sia in quel colloquio, sia in colloqui precedenti, mi aveva esternato la sua preoccupazione per l'ipotesi che la Banca d'Italia potesse accedere ad ipotesi di soluzione della liquidazione della banca privata italiana, non pienamente rispettose, degli interessi pubblici in gioco, e mi aveva chiaramente detto che, in un'ipotesi di tal genere, egli avrebbe immediatamente rinunziato all'incarico di liquidatore. Io lo rassicurai dicendogli che, in un'ipotesi di quel genere, anche io avrei dato le dimissioni. In proposito, è rilevante anche la deposizione resa da Sarcinelli il 27 ottobre 1981 alla Commissione parlamentare sul caso Sindona. Ambrosoli e Sarcinelli hanno quindi saputo dire un secco no a Sindona e ai suoi portavoce. A differenza di altri personaggi, anche di grande rilievo politico, che quel secco no non hanno mai saputo dirlo. Il rifiuto di Ambrosoli e Sarcinelli, che emerge con estrema chiarezza dal tenore del colloquio fra i due in quell'11 gennaio 1979. Il fatto che si tratti di un rifiuto sostanzialmente isolato, salvo il sostegno del governatore Baffi, che si muove controcorrente rispetto ad un contesto di comportamenti conniventi, o quantomeno ambigui, imbarazzanti ed esitanti. Il fatto che Ambrosoli, per quel rifiuto, sia stato di lì a sei mesi assassinato. E si vedrà come sussista un quadro probatorio sufficiente per individuare distintamente la matrice del delitto. Tutto ciò obbliga il giudice istruttore di questa sentenza a prendere in esame certi inquietanti interrogativi, che sono stati sollevati dallo stesso Ambrosoli e dal teste Mario Barone, sulla genesi della disavventura giudiziaria capitata al dottor Sarcinelli il 24 marzo 1979, a seguito della quale egli è stato definitivamente allontanato dal servizio di vigilanza della Banca d'Italia. Alla data del 24 marzo 1979, Ambrosoli registra sulla sua agenda diario l'avvenuto arresto di Mario Sarcinelli. Il 6 aprile annota ancora quanto segue. Sarcinelli libero ma sospeso. Mario Barone, amministratore delegato del Banco di Roma, dice che il rifiuto a Michele Sindona è stato la goccia che ha fatto traboccare il calice. Sentito poi come teste nell'83, Barone afferma «è chiaro che in quel periodo il caso Sarcinelli era oggetto di commento di tutti gli ambienti bancari». Personalmente, fra le ipotesi più probabili, io allora propendevo per quella che Sarcinelli avesse pagato il FIO per avere mandato l'ispezione al Banco Ambrosiano. Il giudice istruttore, letti gli atti del procedimento penale nei confronti dell'imputato Mario Sarcinelli, ordina che Sarcinelli sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio di tale pubblico ufficio. La motivazione è che l'esercizio di tale pubblico ufficio da parte di Sarcinelli appare all'evidenza di ostacolo alle ulteriori indagini che riguardano sia l'interesse privato contestato all'imputato, sia, tra l'altro, l'attività della vigilanza in tutta la complessa vicenda dei finanziamenti al gruppo Sir Rumlanca, e che, pertanto, l'ulteriore esercizio di tale pubblico ufficio da parte del Sarcinelli appare incompatibile con le esigenze dell'accertamento della verità. Questa ordinanza è datata a Roma, 17 aprile 1979. Il 4 maggio 1979 il giudice istruttore revoca, anzi più esattamente modifica, la precedente ordinanza tenendo in considerazione la nota 28 aprile 1979 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si fa presente che il Governatore della Banca d'Italia, attesa alla difficoltà di distribuire tra il Direttore Generale e l'unico Vice Direttore Generale in servizio gli innumerevoli e delicati compiti spettanti al direttorio, aveva chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri di prospettare all'autorità giudiziaria, qualora non sussistessero più pressanti esigenze istruttorie, l'opportunità di revocare l'ordinanza di qui sopra, precisando altresì che, qualora il dottor Sarcinelli fosse stato riammesso in servizio, gli sarebbe stato affidato il settore monetario e valutario. Considerato che il PM aveva al suo tempo chiesto la sospensione di Sarcinelli dall'esercizio delle sue funzioni illimitatamente al settore vigilanza, stante quella assicurazione ed autolimitazione, può essere disposta alla revoca della ordinanza di sospensione di qui sopra. Con provvedimento del 28 gennaio 1981, su istanza della difesa, il giudice istruttore revoca le due precedenti ordinanze, considerando il tempo trascorso e che la pena accessoria non può avere durata superiore a quella della pena principale, che eventualmente potrà essere inflitta. Con sentenza del 9 giugno 1981, infine, il giudice istruttore di Roma proscioglie tutti gli imputati, Sarcinelli e Baffi compresi, con formula ampia. «Non spetta a questo giudice istruttore», recita sempre la sentenza ordinanza, «stabilire in questa sede, se i sospetti avanzati da Ambrosoli e Barone, sospetti di una oscura operazione tesa a colpire una linea coerente e rigorosa, seguita dalla Banca d'Italia di Baffi e Sarcinelli, siano meno fondati». Tuttavia, vi sono alcuni fatti che obbligano questo giudice istruttore a trasmettere copia della presente sentenza ordinanza e degli atti rilevanti sotto il profilo della vicenda Baffi-Sarcinelli alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, perché tale ufficio possa valutare l'opportunità di un approfondimento di quella vicenda. Quali sono questi fatti? Il fatto che Sarcinelli, come dirigente del servizio di vigilanza, fosse obiettivamente di ostacolo agli interessi di Sindona, ma anche agli interessi di Calvi e, ciò che conta maggiormente, in generale agli interessi finanziari facenti capo a quello che possiamo definire come «il sistema di potere P2», del quale Sindona e Calvi erano solo due esponenti di rilievo. Il fatto obiettivo che Sarcinelli, in quella primavera del 1979, sia stato definitivamente rimosso dal servizio di vigilanza. La sospensione verrà meno solo a fine gennaio 1981, quando ormai egli è passato da tempo ad altro incarico. Il fatto che tale accadimento si collochi temporalmente nel contesto particolare che è stato illustrato nei capitoli precedenti ed abbia obiettivamente messo fuori gioco colui che, oltre ad aver promosso l'ispezione al banco ambrosiano di Roberto Calvi, si opponeva a qualsiasi soluzione della liquidazione della banca privata italiana, contraria all'interesse pubblico. E da ultimo la stessa singolarità dell'andamento processuale che abbiamo appena descritto. Tanto più che Buffy e Sarcinelli, nei mesi immediatamente precedenti alla loro incriminazione, erano stati oggetto di pesanti attacchi da parte del noto settimanale osservatore politico di Mino Pecorelli, affiliato alla P2, proprio in relazione alle vicende ruotanti intorno alla Sir di Rovelli. Lo Stato Parallelo è un podcast prodotto da Frame Festival della Comunicazione per RaiPlay Sound. Nasce da un'idea di Gerardo Colombo e Dan Kosinger. I testi e la voce principale sono di Gerardo Colombo. La seconda voce maschile è di Marcello Moronesi. La seconda voce femminile è di Chiara Leoncini. I contenuti redazionali e la supervisione editoriale sono di Silvia Di Pietro e Veronica Scazzosi. La post-produzione, il sound design e le musiche sono di Diego Minac. RaiPlay Sound, podcast, audiolibri e radio live. Ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app.